Professoressa, abbiamo visto che diversi paesi in Europa stanno passando all'obbligo vaccinale, quella la via? Probabilmente sì, perché abbiamo una situazione complicata, nel senso un virus che non andrà via, almeno non per il momento, che continuerà a circolare e finché circola così tanto e tante persone non sono vaccinate nel mondo, il virus continuerà a mutare e mutando può diventare più trasmissibile, può eludere la risposta immunitaria, per cui noi non ne usciamo più altrimenti da questo circolo, dobbiamo uscirne come? Facendolo diventare una sorta di banale influenza e come possiamo fare questo? Vaccinando tutti, cioè se tutti fossimo vaccinati è vero che ci potremmo contagiare, è vero anche che qualcuno si potrebbe ammalare in maniera anche grave, però sarebbe un numero veramente piccolo di persone, quindi come accade anche con l'influenza del resto. Finché invece avremo così tante persone non vaccinate, avremo gli ospedali che vanno sotto stress perché si riempiono i reparti di malattie infettive, si riempiono le terapie intensive e quindi noi dobbiamo ricominciare a parlare di restrizioni, di chiusure, questo non può andare avanti così, è l'unico modo a questo punto per uscirne attraverso una vaccinazione generalizzata. Grazie professoressa Viola. Grazie a lei.